ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi degli alimenti veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'alimento veterinario lambericce crspa ultimo aggiornamento 31 marzo 2021 informazioni commerciali confezioni formulazione indicazioni informazioni commerciali titolare crspa concessionario crspa confezioni lambericce oskilogrammi 15 lambericce oskilogrammi 3 formulazione composizione carni e derivati agnello 14 per cento cereali riso soffiato 14 per cento sottoprodotti di origine vegetale polpa di barbabietola 2 per cento rosmarino 0 e 0 7 per cento olie grassi estratti di proteine vegetali ortaggi semi semi di lino 1 per cento lieviti zuccheri frutto oligosaccaridi 0 e 04 per cento sostanze minerali additivi additivi nutrizionali vitamina 13000 ui barra chilogrammi vitamina d 3 1300 ui barra chilogrammi vitamina e 140 mg barra chilogrammi ferro sulfato ferroso monoidrato 366 mg barra chilogrammi zinco ossido di zinco 46 mg barra chilogrammi rame sulfato rameico pentahidrato 79 mg barra chilogrammi manganese ossido manganoso 19 mg barra chilogrammi iodio iodato di calcio anidro 0,80 mg barra chilogrammi selenio selenito di sodio 0 e 22 mg barra chilogrammi antiossidanti indicazioni per il mantenimento di soggetti delicati di tutte le taglie facilmente digeribile per cani che preferiscono alimenti a base di agnello e riso fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato